Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, oggi nuovo video e come avete capito dal titolo è un video per quanto riguarda le sponsorizzazioni che farò a tutti i miei iscritti ovviamente questa sarà una prima parte e quest'oggi sponsorizzerò insomma 10 canali dei miei iscritti, ovviamente che io sono anche iscritti ai loro canali eccetera eccetera e perché faccio questo? Perché come sapete tutti Youtube ha cambiato tutte le regole per quanto riguarda la monetizzazione eccetera eccetera che devi avere 1000 iscritti, devi avere non so quante visualizzazioni, io ovviamente un video a parte non l'ho fatto che comunque ne ha parlato tante persone la mia opinione che vi devo dire alla fine siamo tutte arrabbiate, è normale, ovviamente qualche soldina in più oltre che uno lavora o anche che uno lavora comunque faceva sempre comodo però non è la questione dei soldi, è la questione anche dei principi secondo me, almeno per aiutare i canali quelli un po' più piccoli come il mio o altre persone però vabbè purtroppo ha cambiato tutto, le regole sono queste e ciao, è inutile che ci arrabbiamo perché tanto ha cambiato tutto, ormai così non è che potremo fare niente e quindi con questo io ho deciso di sponsorizzare e quindi di aiutarci a vicenda ragazzi e ragazze veramente ci dobbiamo cercare di aiutare per far crescere i nostri canali e quindi ho deciso di fare questa cosa, questa cosa mi è venuta in mente guardando il video che l'ha fatto anche lei, una mia iscritta Luca Meri de Cadella, ciao tesoro, un bacio grandissimo e lei giustamente ha fatto le sponsorizzazioni su alcuni canali e quindi lo voglio fare anch'io ovviamente io farò queste sponsorizzazioni per tutti i canali a cui sono iscritta perché c'erano tanti e quindi penso che durerà queste sponsorizzazioni, non lo so, comunque ne faccio una decina alla volta e alla fine finisce quindi questa mattina scusatemi sponsorizzerò 10 canali poi un'altra cosa, non è il fatto di soldi di youtube che non deve avere i soldi, certo non lo neghiamo che comunque qualche soldo in più faccia la comoda normale ok, lo sappiamo tutti, però io se faccio i video su youtube è perché mi piace tanto fare video, mi piace farvi vedere le mie passioni, i miei hobby mi piace farvi vedere quando faccio le nell'art su tip, quando faccio le ricostruzioni insomma dei miei clienti dei tutorial, dei haul, dei get ready with me, dei vlog eccetera eccetera quindi se era una roba per i soldi a sto punto è il pezzo che avevo chiuso il mio canale, avevo abbandonato youtube ma non è per quello perché sinceramente non mi interessa, mi interessa un po' sì perché comunque potrei guardare neanche qualcosina però vabbè, insomma chiudiamo tutto questo discorso e niente io adesso vi lascio alle sponsorizzazioni alle sponsorizzazioni di questi 10 canali di miei iscritti eccoci qua, allora il primo canale che vi consiglio è lei, lei si chiama Emanuele e il suo canale si chiama Facile Veloci Opinioni Emanuela adesso vi faccio vedere i suoi video eccoli qua lei ha fatto praticamente questi tipi di video qua lei perché si chiama Facile Opinioni Opinioni? perché comunque dice la sua su determinate cose eccetera eccetera fa le live poi vedete queste sono tutte live poi fa anche delle prove fa anche semi permanente lei ha fatto anche un corso sta migliorando ed è molto brava per quanto riguarda le unghie e tutte queste cose così insomma fa anche lei video allo, video di cucina video di nell'arte anche lei insomma le cose che compra per le unghie insomma eccetera eccetera e per quanto riguarda le opinioni ovviamente lei dopo dice sempre comunque la sua è molto brava a me è mia simpaticissima è la mia tesorina e quindi mi raccomando iscrivetevi al suo canale adesso vi faccio vedere e vi faccio vadare scusatemi vedere un pezzo di video vi faccio vedere questo qui casomai questo qui finalmente Aliexpress sperando che sentirete anche il volume ciao, finalmente un nuovo on Aliexpress mi sono arrivati alcuni di Jack Cardin che ha ricordato l'ora del mai e finalmente tre sono arrivati e sono il 521 questo fuxi a Barbie questo fuxi è un po' più caldo è il 526 e infine il 539 che è questo rosso sarà ora 526 521 erano imballati veramente bene il problema è stato di rimare la stertura ma ancora non sono abbastanza denti e niente non avevo neanche da mostrarti di altro un bacio da me ma non è la faccia e alla prossima ciao allora ragazzi e ragazzi io ovviamente non faccio vedere tutti i video faccio vedere qualche spezzettone di video perché devo sponsorizzare 10 persone quindi adesso vedo se ne faccio 10 5 vedo dopo come va a finire il video quanto dura perché comunque faccio vedere anche qualche pezzo di video non tutto ovviamente non vi faccio vedere su ogni persona due video o tre perché c'è c'ho anche altre persone quindi non mi soffermo solo specificamente su una comunque lei è Manuela questo è il suo canale faccio le vostre opinioni e mi raccomando iscrivetevi al suo canale adesso passiamo al secondo canale andiamo a vedere il secondo canale eccoci qua allora lei si chiama Sara e il suo nome del canale si chiama Dark Lady Bijou lei è anche una mia amica proprio fisicamente nel senso che comunque ci conosciamo da tanti anni e come lei ha deciso di aprire un canale YouTube anche io comunque ogni tanto ci vediamo usciamo insieme eccetera eccetera allora questi qua sono i suoi video che lei fa è molto brava a truccarsi a me personalmente piace molto allora come video fa dei make up tutorial fa dei mini haul insomma dei fa di haul dei cambio look le collaborazioni con questa marca poi fa dei vari ecco tutorial tipo anche come questo qui dell'occhio del polso fa vedere le robe che insomma vengono regalate come i miei regali di Natale insomma la maggior parte fa tutte quelle cose che riguardano il trucco anche di unghie ogni tanto scusate levo sta roba se c'è bene così anche di unghie ogni tanto comunque fa anche robe ecco di maschere di creme eccetera eccetera i tag fa un po' di tutto diciamo però la cosa che a lei infatti passiona molto è il make up insomma infatti a maggior parte fa i video tutorial sul make up allora intanto vi faccio vedere il primo video prendo tutti i primi video dai il make up tutorial con i prodotti della Karaja che lei ha fatto e che ha messo da poco e che ha messo Grazie a tutti. 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 Un pezzo di vlog che l'hai fatto. Vlog ho fatto un disastro con le neve. Vediamo questo. Scusate ma non si sente proprio... Vabbè... Scusate ma non si sente proprio... Ok... Scusate ma non si sente proprio... Un leggo... Dove nessuno ti vede... Comunque io sotto all'info box vi lascio comunque i loro link dei canali... Allora... Lei è Raffaella... Le maschere... Le maschere per il viso... Le maschere per il viso... Per quanto riguarda i capelli, le routine... Insomma tutte queste cose qui... La maggior parte anche live lei fa... Allora del suo canale andiamo a vedere questo qui... Facciamo il tiramisù... È una live però comunque... Vi faccio vedere un pezzo di video che lei fa di cucina... Salve a tutti... Salve a tutti... Mamma... Allora... Mi ho usato... Qua davanti... Ho già rotto le uova... Sto separando... I giorni... Dall'albume... 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 Sto separando... I giorni... Per mezzo chilo di mascarpone sto usando 6 uova. Per mezzo chilo di mascarpone sto usando 6 uova. Ok, no, non è ok. Forse sì, forse no. Così vedete meglio? Così vedete meglio? Ok. E Anna, io di solito non uso la spatola e questo forse è un mio difetto. Nel senso che faccio sempre con le fruste a uno, piano piano vado ad incorporare anche i tuorli e gli albumi, scusate. Adesso vedete come faccio io di solito. Di solito non mi si svolta, quindi... Ciao, Stu! Steve, Stu! Ormai per me sei Stu qui. Ormai sei Stu, ti ho ripartizzato Stu e per me rimane Stu. Ok. Ci siete? Sì, ok, me l'ha suonato il telefono. Adesso un bel bicchierozzo con il cacao sopra. E questa è la menenda del bimbo per domani e la metto in frigo. Ok. Allora, ragazzuoli, io vado a ripulire tutto questo macello. Spero di avervi tenuto compagnia per questa mezz'ora. Vi farò sapere nel prossimo video com'è venuto il tiramicio. E vi ringrazio per essere state qua. Un bacio a tutte, vi voglio bene. Ciao! Eccomi qua. Allora, dopo aver visto il video di Lady Vampira, questo è il suo canale. Ve lo faccio rivedere. Eccolo qua. È molto brava e mi piace veramente molto anche lei. Quindi mi raccomando, iscrivetevi anche voi al suo canale. Allora, passiamo. Allora, questa è la quinta iscritta, quindi al quinto canale. E mi fermo qua, ragazzi. Poi la prossima volta farò altri cinque miei iscritti. Per adesso io mi fermo qui perché sennò il suo video dura un'eternità. Quindi, ok. Allora, lei è Bicce. Questo è il suo canale. Questi sono i suoi video. Ecco qua. Lei, questi qui i miei canali preferiti ovviamente, sono i miei canali preferiti per quanto riguarda le unghie. Come vedete qui fa vedere che fa l'effetto marble, gli spacchettamenti delle passioni unghie. Che io pure acquisto su passione unghie. Per quanto riguarda i refill, fa anche i haul, prodotti finiti, i haul sulle unghie, su quello che acquista. Vedete, tutti i refill, la maggior parte lei fa dei video. E acquisti di sua passione unghie. Fa degli esperimenti per quanto riguarda linee l'art, eccetera, eccetera. Qui il nome va giù. Vabbè, insomma, tutti questi video qua. E quindi mi raccomando iscrivetevi al suo canale. Allora, adesso vediamo questo video che ha fatto dell'effetto marble e matte. Vediamo un po'. Ciao a tutte ragazze e bentornati sul mio canale. Allora, oggi video refill, refill del mese di gennaio. Un video semplice dove vi faccio vedere già il tutto, ecco, ricostruito. Passiamo solamente all'anel art, comunque un allen art semplice, nonostante sia un po' pesantuccio, ecco. Questo è un refill di più di tre settimane. E allora è tutto bene. Qui ovviamente soliti passaggi, disinfetto e spingo le putevole, tolgo l'eccesso e poi inizio a togliere tutta la ricostruzione. Non tutta. Inizio da abbassare la bombatura. Ho deciso di fare delle unghie sul nero, con un triplo effetto, ovvero l'effetto lucido, con l'easy gloss, un effetto opaco, semplicemente opacizzando un monofasico. E l'effetto mammo, ovviamente al contrario, quindi con una base nera e con le sfumature bianche. Ah no, in realtà sono quattro effetti, perché sull'anulare ho deciso di fare, diciamo, un degradé, diciamo, no, non era un degradé, ma comunque, diciamo, un misto di glitter tra argento e nero. Qui, infatti, vi faccio vedere, passo direttamente all'anel art. Qui faccio due passate, una a smalto e l'altra un po' più importante di vino. Questo è un gel dell'anel design, un gel vecchissimo. E in questa ricostruzione, sull'indice, ho utilizzato il natural builder, che vi devo dire, su di me. Va bene. Niente, alla prossima, aspetto dei commentini e poi i cignali in su. Buona giornata, ragazzi. Allora, riacchami, avete visto anche un video di lei, Bicce. E niente, iscrivetevi anche voi, anche a questo canale di Bicce. E scusatemi se io non sono tanta esperta a fare sponsorizzazioni, perché comunque, ovviamente, quando vi devo fare vedere un pezzo di video, se dura 30 minuti o 5 minuti, non è che ve lo posso fare vedere tutto. Vi faccio vedere in pezzo, ogni tanto vedete qua sotto che ho con la freccetta, ma andavanti. Vi faccio vedere un po' all'inizio, casomai un po' in mezzo, di dove sono arrivati. E alla fine, insomma, capite più o meno anche di che video si tratta, insomma. Anche comunque se non vi faccio vedere, comunque vi vedrete lo stesso sotto. Però mi piace anche farvi vedere sia loro, sia come parlano, insomma, come gestiscono il video, eccetera, eccetera. E quindi mi raccomando, iscrivetevi a tutti questi 5 canali che vi ho già detto. E mi raccomando, comunque, sotto l'info box vi metto i loro link. Questa è la prima sponsorizzazione che faccio, quindi scusatemi, abbiate pietà di me. Spero che comunque sarete contetti che ho deciso di fare questa cosa e lo dovremo fare tutti. E mi sarebbe piaciuto se lo fareste, cioè, mi farebbe piacere se lo fareste anche voi. A meno così ci diamo una mano uno con l'altro a cercare di, insomma, di salire anche un po' più del livello, insomma, con il nostro canale. Va bene, detto questo, vi saluto, vi mando un grossissimo bacio. E noi ci vediamo al prossimo video, che non so quale sarà. Comunque ci vedremo anche il prossimo video, che sarà una seconda sponsorizzazione per altri 5 canali. Alla prossima, ciao! Ciao!